Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna sono chiuse per lavori le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per questo motivo si sono formati tre chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Imprunita e rallentamenti tra Firenze Imprunita e Firenze Scandicci. Sempre in direzione Bologna ma per traffico intenso, code a tratti tra il bivio di Firenze Nord e Barberino. Fare inoltre attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico tra Rocco Bilaccio e Aglio. Sulla Fipili in direzione Firenze 4 km di coda per lavori tra Montelupo e Lastra, coda per incidente tra Interporto Toscano Est e il bivio per la 12. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!